A VATI BAMBINI Non sono più felice. Sento di aver bisogno di qualcos'altro. È una fase. È solo una fase. Che cosa stai pensando di fare? Dov'è la mia ragazza? Dov'è la mia ragazza felice? Tu almeno hai lui, che guadagna molto bene. Io ti invidio. Sei bravo con i bambini. Ma cosa dici? Smettila. Adesso parla con me. Che cosa vuoi? Posso avere un biglietto per Parigi, per favore? Rispondi al telefono. Chiamami, per favore. Rispondi al telefono. Non riesco a credere che tu stia facendo questo. Volete parlare al telefono con la mamma? La libertà arriva quando ti avvicini a chi sei veramente. Voglio vederti di nuovo felice. Penso che tu sia fantastica. Sei bellissima. No Yeah. Non спасибо. No No No